Andato in fiamme un sabato notte del 2011, all'alba di quel 20 febbraio, lo Chali, fiora l'occhiello della ristorazione sulla costa garganica, non era che un cumulo di macerie fumanti, una brutta storia di ricatti e intimidazioni, un duro colpo per i proprietari rappresentanti pugliesi dell'associazione antiracket che forse, proprio per quel no chiaro e netto alla connivenza con ambienti opachi, subivano quell'incendio. Ma da oggi lo Chali torna a stupire con la sua cucina protesa sul mare e soprattutto si pone come segno di speranza e di streno a difesa della legalità. All'inaugurazione ha partecipato il ministro dell'interno Anna Cancellieri per sottolineare la presenza dello Stato contro la malavita incapitanata e per evidenziare la ricostruzione realizzata con i fondi dell'ufficio del commissario straordinario del governo per le iniziative antiracket e usura. E' una vittoria per lo Stato, per gli imprenditori, per l'associazionismo antiracket, perché oggi si dimostra concretamente con un fatto, non con le parole che diciamo in lei, ma con un fatto, che l'attentato intimidatorio contro lo Chali si è rivelato essere un boomerang per chi lo ha fatto, perché oggi abbiamo uno Chali che dalla distruzione è rinato, assai più attraente, più bello.